cari amici di numismatica fordarmis buongiorno oggi volevo trattare dell'argomento le varianti di conio gli errori di conio cosa sono le varianti di conio sono modifiche apportate alla moneta per correggere errori o modificarne l'aspetto renderla più gradevole qui un esempio ce ne sono tantissime un esempio è il 500 lire dove varia le dimensioni della testa c'è una testa più piccola e snella o una testa più grande e altra cosa è la firma di laura cretara incisore della moneta stessa che in alcuni esemplari è più grande più spessa in altre più snella ci sono tantissime variazioni di conio e le potete appunto vedere consultando i cataloghi e alcune di esse apportano anche modifica il valore della moneta stessa alla rarità altra questione invece è l'errore di conio cos'è un errore di conio sono errori commessi durante la coniazione della moneta possono essere decentramento rotture di conio parti mancanti conio stanco cioè evanescente la figura o escrescenze di metallo in questo periodo a me negli euro sono capitato è capitato molto spesso di vedere appunto queste escrescenze di metallo qui ad esempio un 2 euro che ho trovato dove c'è questa riga che è una escrescente secondo me è una frattura di conio che ha portato a questa riga sopra ri vedo molto spesso anche questi esempi escrescenze di metallo secondo me sono dovute a una mal placatura della moneta stessa infatti le monete diciamo cosiddette i ramini e in euro sono in realtà placati in rame niente spero che il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e iscrivermi al mio canale per seguirmi vi ringrazio molto cari amici